Ciao ragazzi, bentornati, questa è l'estrazione del primo contest sulla BluefireTV e mi spiace non poterlo fare con Josh in quanto siamo nelle vacanze di Natale, siamo tutti separati nel senso lui è in Germania e io sono in Italia e non ci troviamo assolutamente neanche su Skype mi scuso anche per il lieve ritardo l'estrazione riguardava appunto questi due video, Minecraft Premium Giveaway sul mio canale e Minecraft Premium Giveaway sul suo canale, infatti è il suo speciale per questo era stata richiesta l'iscrizione al suo canale come vedete quando faccio l'estrazione metto subscription ovvero iscrizione obbligatoria al suo canale e l'estrazione verrà fatta su due video così come me l'ho annunciato quindi metterò prima l'id del mio video e poi l'id del suo video e ci sarà due, appunto usciranno due persone e poi con una random.org che vi apro subito estrarò il vincitore perfetto random.org e ok, partiamo subito con l'id del mio video come vedete questo qua, è ok e più avete commentato quindi più avete la possibilità di vincere infatti non ho crociato la casella singolo commento permesso quindi il primo vincitore è Luca Antonelli 1 ottimo Luca Antonelli, tu sei il possibile vincitore di Minecraft Premium chiudiamo il mio video e ora sul canale di Josh 0196 prendiamo il link che mi pare sia questo non vorrei fare un errore quindi Luca Antonelli tutto minuscolo si può vedere anche il commento partecipo, perfetto ora vediamo il vincitore del canale di Josh la 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 wow Luca Antonelli numero 1 e Supergriere numero 2 quindi allora 2 ok dovrebbe essere così dovrebbe uscire 1 o 2 ok è uscito 1 Luca Antonelli sei il vincitore di Minecraft Premium spero di non aver sbagliato sto procedimento se ho sbagliato ditemelo ma credo che sia giusto quindi complimenti ti contatterò per messaggio privato e ragazzi se volete lasciate il like cioè non me frega niente sinceramente è solo un'estrazione ci saranno comunque altri contest quindi se volete lasciare tutti i dislike che voi avete perso io lo capisco benissimo quindi bene ragazzi al prossimo video e bene ragazzi bye 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 Grazie.